Eliminare le pulci con terra di diatomee. La terra di diatomee è l'opzione più sicura per disfarsi di pulci e zecche. Mentre è letale per i parassiti, è totalmente innocua per gli esseri umani e per gli animali domestici. Tutti coloro i quali hanno o hanno avuto un animale domestico hanno dovuto affrontare almeno una volta la spinosa questione delle pulci. Potrete trovare un ottimo alleato nella terra di diatomee. Questi odiosi insetti sono parassiti esterni che vivono negli animali a sangue caldo. È comune trovarli in cani e gatti ed eliminarle può essere molto difficile. Quando le pulci attaccano i nostri animali domestici, dobbiamo assolutamente disfarcene. Esistono numerosi prodotti molto efficaci che, però, contengono un'alta quantità di sostanze chimiche che può danneggiare sia noi che gli animali. Un rimedio alternativo, ma davvero efficace. È costituito dalla terra di diatomee. È una roccia che si forma a partire dai residui fossilizzati di un'alga dalla corazza molto dura, farina fossile. Sebbene sia assolutamente sicura per umani e animali, grazie ai suoi bordi affilati diventa letale per insetti e parassiti poiché li disidrata e li secca. Propagazione delle pulci Se una pulce femmina si insinua nel pelo del nostro animale, vi depone le uova. Il problema non è solo questo, perché queste uova cadono facilmente e ce le ritroviamo nei tappeti, nei mobili o nei luoghi in cui il nostro animale dorme. Dovunque si trovi l'animale, è probabile che troveremo queste uova e che esse si schiudano. Di conseguenza ci ritroveremo con larve nascoste nel nostro bel tappeto, nei cuscini, nelle poltrone e persino nelle crepe del pavimento. Il trattamento per eliminarle deve essere eseguito costantemente, infatti può verificarsi una nuova infestazione sia nell'animale che in tutta la casa. Se non avete trovato alcuna soluzione per allontanare le pulci, oggi vi proponiamo un'eccellente tecnica a base di terra di diatomee. Trattamento a base di terra di diatomee Questo trattamento deve essere applicato sulle zone preferite dal vostro animale, la sua cuccia, un tappeto, il cuscino con cui gioca e persino l'erba del giardino. La terra di diatomee può essere reperita dal ferramenta, nei vivai e persino nei negozi di giardinaggio. Ovviamente è importante non comprare quella per piscine, poiché ci servirà quella alimentare. Ecco i passaggi da seguire, usando dei guanti e una mascherina, afferrate una piccola quantità di terra e cospargitela sul vostro animale, strofinando affinché si addentri nel pello. Spazzolatelo con un pettine che vi aiuti ad estenderla sul pello. Nota, fate attenzione a non fare entrare la terra nelle orecchie e negli occhi dell'animale. Cospargete la terra di diatomee nel tappeto o nella cuccia in cui dorme l'animale. È importante che si trovi fuori dalla stanza mentre il procedimento viene realizzato, almeno finché la polvere non sia stata collocata. La terra deve arrivare negli angoli, nelle crepe della parete o del pavimento. Nel caso dei tappeti è necessario farla riposare per qualche ora o, preferibilmente, per tutta la notte prima di ritirare il prodotto. Potete farlo sbattendo il tappeto, ma la migliore opzione è utilizzare l'aspirapolvere per evitare che la terra faccia male al vostro animale. Non dimenticate alcun angolo nei luoghi in cui pensate possono essere presenti pulci e zecche, create una specie di barriera con la terra di diatomee per evitare che entrino in casa. All'esterno cospargitela nelle crepe e, in particolare, nel giardino. Il prato e le piante in generale sono le zone in cui potenzialmente possono essere più presenti le pulci, pertanto è essenziale cospargervi questa terra. Se avete degli alberi nel vostro giardino, collocatela nella corteccia. Dovrete fare lo stesso negli arbusti, nelle siepie e in tutti i luoghi in cui potrebbero risiedere questi fastidiosi parassiti. Se il vostro animale è stato nella vostra auto, si consiglia di applicare la terra di diatomee nei sedili e sui tappetini per uccidere qualsiasi pulce o zecca potenzialmente presente. Fate lo stesso con i tappeti di casa, lasciatela riposare per qualche ora e poi aspiratela. Si consiglia di ripetere il procedimento ogni due settimane per eliminare qualsiasi pulce o zecca che possa trovarsi in casa.